Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori verso sud tra Pian del Voglio e Aglio. Il provvedimento è in vigore fino alle 19 di questa sera. Per la mobilità 2 km di coda per veicolo fermo o in avaria tra Firenze Scandice e Firenze Sud in direzione Roma. In A11 possibili disagi per veicolo fermo o in avaria tra Prato Est e Prato Ovest per chi viaggia verso Pisa. In Fipili per lavori tra Monterupo ed Empoli Est, verso Livorno un km di coda, in carreggiato opposta quindi verso Firenze, il traffico è rallentato. Uno sguardo alla cantiristica sulla SR429 di Valdelsa per lavori volti a creare condizioni di maggiore sicurezza, restringimento di carreggiata all'altezza del km 44 nel comune di Barberino. Il provvedimento è in vigore fino a fine anno. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.